La Lega alla presenza del sottosegretario Stefano Candiani ha tenuto a battesimo il nuovo circolo cittadino, quello che dovrebbe fare da riferimento nelle trattative con gli alleati del centro-destra in vista delle amministrative del prossimo anno. Giuseppe Spata è il nuovo coordinatore cittadino nonché presidente del circolo locale della Lega di Salvini, vicepresidente Emanuele Alabisso, segretario Salvatore Sauna, tesoriere Rosario Sanmartino, consigliere Massimo Ogni Santo e responsabile giovani Francesco Cuvato. A breve presenteremo il nostro circolo e inizieremo a lavorare nel territorio come abbiamo già fatto in questi anni, con una spinta diversa e la nostra sede sarà appunto di riferimento un po' per tutti, militanti, simpatizzanti di Matteo Salvini che sono davvero tanti e devono soltanto essere organizzati. Inizia una nuova fase per la Lega soprattutto dopo il successo in città alle ultime elezioni nazionali. La Lega è il primo partito in Italia e governa le principali regioni del nord. Pensa che la Lombardia ha un prodotto interno lordo pari a quello della Germania, questo significa che in termini di ricchezza reale la Lombardia è ricca quanto la Germania. Questo grazie al governo della Lega, all'amministrazione che la Lega ha avuto di queste regioni per oltre vent'anni e vuole farlo anche in Sicilia e anche qui a Gela, con una classe dirigente seria e un programma altrettanto serio per questa città. Sono questi i nomi ufficiali della Lega cittadina nonostante le varie voci che circolano in città dei vari gruppi e gruppette all'interno del partito. Nella Lega ci sono delle regole come ci sono dappertutto e queste servono per, non vengono fatte per imporre o limitare la tua libertà, ma per regolamentare il vivere civile tra la gente. Ora, chi rispetta queste regole è dentro la Lega. Adesso bisogna lavorare per preparare la prossima campagna elettorale come al ferme il neocoordinatore Spata. Noi l'indomani della sfiducia ci siamo già messi al lavoro per, come ti dicevo, per presentare una classe dirigente seria e un programma serio.